Due euro al litro ed è questo il livello che anche in Piemonte ritorna a sfiorare i prezzi di benzina e gasolio in questi primi giorni dell'anno. La decisione del governo di reintrodurre la quota piena dell'accise determina un aumento di 30 centesimi su un litro di carburante rispetto allo scorso marzo, quando ci fu il primo taglio dell'accise, e di 18 centesimi rispetto a dicembre. Un'altra stangata quindi da mezzo miliardo di euro per le famiglie piemontesi. E secondo le stime dell'ufficio di Confesercenti, in media i rincari incideranno su base annua per 300 euro a famiglia rispetto a marzo del 2022, e ogni pieno costerà 15 euro in più rispetto a dieci mesi fa. Il ripristino delle accise piene nel 2023 avrà un impatto inflattivo dello 0,4%. E considerato che siamo ancora in piena crisi energetica e che la guerra continua, c'è il rischio concreto di nuove impennate delle quotazioni sui mercati internazionali, con ulteriori aggravi per famiglie e imprese. Con gli aumenti ci perdono tutti, consumatori, imprese, ma anche i benzinai, perché più cresce il prezzo, meno prodotto si vende. Ci aspettiamo un'urgente convocazione dal governo, come promesso dal ministro Gilberto Picchetto Fratin, si legge in un comunicato di Confessor Centi. In ballo c'è il futuro della mobilità del Paese, della logistica e delle persone, oltre quello di 250.000 addetti nelle stazioni di servizio, nella raffinazione e nell'indotto del settore.